E vogliamo salutare anche il nostro presidente di Venezia, questa sera abbiamo il dottor Giampi Cosetto E abbiamo anche l'onore di avere con noi che stasera la presidentessa della provincia di Padova, la signorina Lucilla Con il moroso Antonio Per gli amici Franco Franco, Franco Vogliamo salutare anche la bellissima Iride che è con noi questa sera, è riuscita E la signora Trombaiolo, la signora La signora Diana l'abbiamo fina salutata La signora Trombaiolo Le signorine, vogliamo salutare direttamente da Treviso, Francesca e Laura. E baciamo anche la signora Marinella, benvenuta Marinella. Grazie a tutti. Eccolo qui signori, Fabio!